Musica Stese baby gang, la rabbia di Fico, non posso vivere in una città dove si spara. Il presidente della Camera parla dell'emergenza Camorra a Napoli, ricordando il giornalista ucciso dai clan Giancarlo Siani. Situazione inaccettabile, serve più impegno dallo Stato. Smog a Napoli, stop alle auto, vietata la circolazione in città a partire dal prossimo 1 ottobre fino al 31 marzo, in alcuni giorni della settimana, è quanto stabilisce una delibera del Comune di Napoli predisposta per il miglioramento della qualità dell'aria, il divieto escluso nelle giornate festive e prefestive. Lavoro protesta dei lavoratori CTP, Cori, Striscioni e Corteo tornano in piazza per la seconda volta in pochi giorni lavoratori, traffico bloccato nel centro storico e sindacati sul piede di guerra. I lavoratori sono senza stipendio e i sindacati chiedono certezze sul futuro dell'azienda. Partorisce e nasconde il feto, si indaga. Eseguita questa mattina l'autopsia sul feto di 25 settimane, è partorito da una 25enne nigeriana nel centro di accoglienza di Auletta, nel Salernitano, la donna è accusata di infanticidio e occultamento di cadavere. Regione Mastella sfida De Luca. A due anni dal rinnovo del Consiglio regionale, al via il Totonomi per la carica di presidente, il sindaco Mastella pronto a scendere in campo. Potrebbe essere lui il candidato del centrodestra. Acqua inquinata, allarme ad Avellino. Disposto il divieto di bere l'acqua presso la storica fontana di Vialitalia, lo ha deciso il sindaco Ciampi. Negative le analisi di Asle e Arpac. Chiusa l'erogazione idrica, proteste dei cittadini. Buonasera a questi titoli del nostro Tg. Non posso più vivere in una città dove la camorra continua a sparare. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli. La terza carica dello Stato ha invocato un maggiore impegno del governo nella lotta alle mafie. Il servizio di Rossella Strianese. Giancarlo Siani è stato ucciso nel 1985. Siamo nel 2018 e non abbiamo ancora distrutto la camorra nella nostra città e nella nostra regione. Io non posso più vivere in una città dove si spara. Sono le parole che il presidente della Camera, Roberto Fico, ha usato oggi a vico e quenze prima di intitolare la piazza del municipio alla memoria di Giancarlo Siani, giornalista simbolo della lotta alla camorra. Al cronista del mattino anche una sala della nuova redazione, oggi inaugurata al 33esimo piano della Torre Francesco, al centro direzionale, dove la terza carica dello Stato era affiancata dal fratello di Siani, Paolo, medico e parlamentare del Partito Democratico. Fico ha promesso maggiore impegno del governo sulla legalità, non sulla sicurezza, chiarisce l'esponente dei Cinque Stelle, tenendosi a debita distanza da certe polemiche con gli alleati della Lega. La sicurezza è una parola che non condivido, bisogna fare tantissimo per la scuola, per l'istruzione, per i comuni, per contrastare definitivamente con dei piani seri la lotta alla criminalità organizzata. Inevitabile in questa sede la domanda dei cronisti sul futuro dell'editoria e i rischi per la libertà di stampa dopo le dichiarazioni sempre più convinte del sottosegretario Vito Crimi, che ha confermato i tagli ai fondi per le testate. Il punto è che è un settore in forte trasformazione, anche con l'avvento con le tecnologie digitali, il mondo si sta trasformando. Pensiamo anche a quello che è successo nella città di New York, in America con i quotidiani. Quindi noi dobbiamo comprendere la trasformazione del mondo e capire come rimanere su un mercato. E' chiaro che i finanziamenti, parte dei finanziamenti che ci sono stati fino ad adesso, sono stati dati con delle logiche che non attribuivano né merito né a nient'altro. Oggi c'è il sottosegretario Vito Crimi che secondo me sta attuando dei bei progetti. Stop alle auto a Napoli dal prossimo primo ottobre fino al 31 marzo, in alcuni giorni della settimana. è quanto stabilisce una delibera del Comune di Napoli predisposta per il miglioramento della qualità dell'aria. Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 le auto private non potranno circolare in città il divieto escluso nelle giornate festive e prefestive. Sono concesse deroghe alle auto che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e ai veicoli elettrici. Lo stop alla circolazione è dovuto per gli ultimi rilevamenti dell'ARPAC, secondo i quali al centro di Napoli ci sono stati degli sforamenti delle PM10 per cui il Comune è costretto a prendere provvedimenti. Cori, striscioni e corteo tornano in piazza per la seconda volta in pochi giorni i lavoratori della CTP, traffico bloccato nel centro storico e sindacati sul piede di guerra. I lavoratori sono senza stipendio e i sindacati chiedono certezze sul futuro dell'azienda. la Simonetta Iepariello. Continua la protesta dei lavoratori CTP in circa 100. Stamattina hanno manifestato a piazza Matteotti, sede della città metropolitana di Napoli. Il corteo improvvisato ha letteralmente bloccato il traffico in accesso alla piazza creando problemi alla viabilità del centro antico. La richiesta è il pagamento dello stipendio di agosto mai arrivalto, oltre che certezze sul futuro dell'azienda. Il clima è teso, continui cori contro il sindaco Luigi De Magistris. La manifestazione dei lavoratori è la seconda in pochi giorni. Oggi ci giochiamo una partita più importante, quella là che deve dare la svolta a CTP, perché ci devono riconoscere dei crediti affinché l'azienda venga rilanciata e finalmente possiamo offrire un servizio decente alla cittadinanza. Questo è quello che noi chiediamo al sindaco e chi adesso lo rappresenta come istituzione, parliamo di città metropolitana, che fino ad oggi l'abbiamo visto molto, ma molto latitante. Troviamo vergognoso che non ci sia un interesse costante su una questione così importante come il trasporto. Crediamo che sia il momento che qualcuno prendi in mano la situazione e principalmente il buon sindaco della città metropolitana deve dirci cosa vuole fare del trasporto pubblico locale in Campania. Un ennesimo impegno disatteso da parte di città metropolitana che si era impegnato e entro il 20 avrebbe pagato le retribuzioni ai lavoratori. Oggi è 21 ed ancora devono dare un segno per quanto riguarda prima le retribuzioni dei lavoratori, ma anche il futuro di questa azienda. Ho paura che possa aggredirmi ancora, vivo nel terrore. Parla la 37enne polacca colpita con un martello dall'ex convivente ad Avellino. La donna è ancora ricoverata all'ospedale Moscati. Vediamo il servizio. Ho paura che lui possa sbucare in qualsiasi momento anche qui in ospedale e aggredirmi ancora. È terrorizzata la 37enne polacca ricoverata al Moscati di Avellino dopo essere stata colpita e martellata in testa dall'ex convivente. L'uomo, un 57enne avellinese, è stato denunciato e rimesso in libertà il giorno successivo. E' proprio il fatto che non sia stata emessa alcuna misura cautelare a spaventare la vittima. Anche perché l'aggressione avvenuta a Corsa Europa qualche giorno fa non sarebbe un episodio casuale. La 37enne, dopo essersi allontanata di casa, ha raccontato di essere stata più volte pedinata a casa o per strada. Lui non smetteva di seguirla. Oltre a una serie di sms che arrivavano puntuali a tutte le ore del giorno. Torna con me, ti prego. Non accettava di essere stato lasciato. Non voleva saperne di tornare in quell'inferno, ha detto. Qualche settimana fa sono stata aggredita da lui con dei cocci di bottiglia. La vittima, assistita dall'avvocato Costantino Sabatino, per quell'episodio ha deciso di denunciare il 57enne, lesioni aggravati e stalking. Durante la convivenza di oltre 15 anni sarebbero stati numerosi gli episodi di violenza. La donna già una volta aveva denunciato il partner per poi ritirare la querela. Aveva troppa paura. Al momento l'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Cecilia De Angelis e toccherà proprio a lei dopo gli accertamenti affidati agli agenti della mobile decidere se chiedere la misura cautelare o un provvedimento restrittivo nei confronti dell'indagato. Eseguita questa mattina l'autopsia sul feto partorito da una nigeriana 25enne nel centro di accoglienza di Auletta, nel Salernitano. Ora la donna è accusata di infanticidio e occultamento di cadavere. Vediamo. Si è tenuta questa mattina l'autopsia sul feto ritrovato senza vita nella notte tra martedì e mercoledì nello spazio esterno della struttura che ospita un centro di accoglienza per migranti in località Lontrano, ad Auletta. L'esame è stato effettuato dal dottor Adamo Maiese all'ospedale Luigi Curto di Polla. Il piccolo di alpena 25 settimane è stato partorito da una 25enne nigeriana ospite del centro che ha avuto il bimbo nel bagno della struttura. Ad accorgersene altri ospiti del centro che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e successivamente i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. I militari hanno ritrovato il feto nascosto dalla madre in un asciugamano e posto sotto a un secchio nel cortile. La donna è stata così denunciata per infanticidio e occultamento di cadavere. Sul caso proseguono le indagini. L'esame istologico chiarirà se il piccolo sia nato vivo o morto. Ad assistervi anche un perito, consulente tecnico di parte, il dottor Luigi Mastrangelo. Intanto la 25enne dopo il parto ha dovuto subire un intervento chirurgico nel reparto di ginecologia del Curto. di messa ora si trova di nuovo nel centro di accoglienza. E blitz antidroga nel rione Provolera a Torre Annunziata. 21 gli arresti a capeggiare il gruppo dei pusher 9 donne. Rione Provolera sotto scacco. Il blitz dei carabinieri è scattato nel cuore della notte a Torre Annunziata. I militari indivise in borghese con elicotteri e pattuglie hanno cinturato il rione per prelevare 22 persone accusate di spaccio di droga, recettazione e detenzione illegale di armi. A guidare il gruppo nello storico rione Provolera nel centro o plontino presso cui si rifornivano assuntori provenienti da tutta la campagna erano le donne. 9 di loro questa notte sono finite in carcere. Due di queste facevano la broker della droga. Tra queste c'è Anna Gallo soprannominato Ninnak che era già arrestata nel corso delle indagini perché sorpresa con la droga nel reggiseno e vedova del boss Ernesto Venditto alias Bicchierino ucciso in un agguato nel 1999. L'indagine coordinata dalla procura torrese diretta dal dottore Alessandro Pennasilico che si avvalsa dell'operato dei militari dell'arma del nucleo operativo in radiomobile ha consentito di smantellare diverse piazze di spaccio di cocaina, marijuana e crack e di documentare svariati episodi di cessioni di stupefacenti tra maggio 2017 e giugno 2018. I pusher in alcune circostanze consegnavano la droga anche a domicilio e al di fuori del territorio plontino in specie al modo a Pompei e Torre del Greco. Nel corso dell'inchiesta sono state anche sequestrate armi clandestine a carico di alcuni degli indagati una mitraglietta, un fucile calibro 12, una pistola calibro 9, una pistola a tamburo rinvenute dalla polizia nel maggio dello scorso anno all'interno di un piccolo vano ricavato in una muratura di pertinenza della Chiesa del Carmine al ridosso del Rione. A due anni dal rinnovo del Consiglio regionale al Via al Totonomi per la carica del Presidente. Contro 5 Stelle e PD potrebbe scendere in campo anche Clemente Mastella, il Sindaco di Benevento. Vediamo. Clemente Mastella ha candidato nella corsa a Palazzo Santa Lucia. La possibilità al momento poco più che un sasso buttato nello stagno della politica ha preso a circolare negli ambienti napoletani di Forza Italia dove Mastella ha ripreso da alcuni mesi ad avere voce in capitolo. Al rinnovo del Consiglio regionale della Campania mancano due anni e l'ex guarda sigilli oggi segna l'anagrafe 71 anni. Non è di primo pelo insomma ma le sue assoluzioni ottenute nelle inchieste che lo avevano travolto personalmente e politicamente hanno riportato in auge il Sindaco di Benevento. Per Mastella la tentazione è forte e la possibilità che lo scenario politico campano non gli frappunga ostacoli impossibili esiste. L'ex governatore Stefano Caldoro attuale leader di Forza Italia in Consiglio regionale figura già spesa. In ogni caso non potrebbe rappresentare un avversario per battere non solo l'uscente Enzo De Lucca ma soprattutto per costituire un argine al dilagare dei 5 Stelle. Alla luce del cappotto consumato alle politiche sono proprio loro i nemici da battere Mastella potrebbe rappresentare la possibilità di rimettere insieme i pezzi di un centrodestra che qualche anno fa in Campania aveva i numeri per governare ma all'epoca c'era l'Udeur che aveva un milione di voti e Forza Italia godeva del sistema Cosentino il sottosegretario poi arrestato per Camorra politicamente un'altra era geologica Acqua inquinata allarme ad Avellino disposto il divieto di bere presso la storica fontana di Viale Italia lo ha deciso il sindaco Ciampi negative le analisi dell'Asle ARPAC le proteste dei cittadini Allarme acqua inquinata nel centro di Avellino chiuso il fontanino pubblico di Viale Italia a seguito delle analisi effettuate dall'ARPAC il giorno 19 settembre l'acqua non è risultata conforme alla norma dei parametri microbiologici e allora il sindaco Ciampi ha disposto l'ordinanza ad oras di chiusura del fontanino tramite il gestore della rete idrica Alto Calore preoccupati i residenti della zona che il divieto possa estendersi anche alle abitazioni L'hanno chiuso perché hanno scoperto che l'acqua non era potabile Davvero? Sì Lei si rifacillava ogni tanto? No Della verità no Se questo fontanino è alimentato da acqua non potabile ed è solo questo il problema è circoscritto quindi non mi preoccupo più di tanto se invece il problema si estende a tutte le fontane della città potrebbe essere più importante Usi l'acqua non potabile ma non c'era scritto Deve scomparire quest'altro fontanino pure questo? Non credo No Allora non possiamo bere perché quest'acqua arriva anche nelle nostre tubazioni In zona siamo preoccupati non solo per l'acqua ma per tantissime altre cose L'acqua diciamo che è un bene primario fondamentale soprattutto per i residenti per le persone che passeggiano per i turisti forse se ce ne sono ma ai miei o ai miei dubbi speriamo il sindaco di Avellino possa in qualche maniera risolvere la situazione perché comunque è una fontana storica e importante per Avellino Mi dicevi stamattina hai bevuto da quest'acqua? Sì L'hanno chiusa perché pare insomma fosse inquinata l'acqua E ora si ne sono accorti che era inquinata con la gente che andava a bere lì scusa eh a fine ottobre inizio novembre il nuovo dispositivo sarà operativo un intervento mirato per abbassare sensibilmente i livelli di PM10 nell'aria E l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini oggi a Sant'Agata De Goti ha inaugurato il nuovo anno scolastico e sulla sicurezza nelle scuole ha assicurato proseguire sulla strada intrapresa con gli investimenti per l'edilizia scolastica vediamo Inaugurato questa mattina a Sant'Agata De Goti il nuovo anno scolastico provinciale nel Sagno presso l'istituto Sant'Alfonso Maria De Liguori la cerimonia con l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini e il consigliere regionale Mino Mortarolo iniziativa che rientra nell'ambito del progetto regionale Scuola Viva che ha dato quasi via al nuovo anno che per la provincia di Benevento si caratterizza per gli investimenti nell'ambito della sicurezza e abbiamo investito sul piano triennale di edilizia scolastica tra l'altro la provincia di Benevento ha avuto circa 100 milioni di investimenti è una cifra importante è chiaro che le nostre scuole hanno continuo bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria è una nostra priorità è chiaro che chiediamo aiuto anche al governo attenzione rivolta non solo alla sicurezza nelle scuole ma anche ai progetti volti a contrastare la dispersione scolastica la provincia di Benevento e le scuole secondarie sono state protagoniste di un'importante fase di progettazione quindi tra poco partiranno i lavori con l'assessorato e il consiglio si continuerà a lavorare su iniziative come Scuola Viva sull'immaginare gli istituti scolastici aperti tutto il giorno per poter anche combattere il fenomeno delle dispersioni scolastiche l'ospicio per il nuovo anno è proseguire nel percorso intrapreso e favorire sempre più l'integrazione tra la scuola e il territorio un anno scolastico che possa svolgersi come negli ultimi anni nell'ottica di una valorizzazione di quello che è l'integrazione della istituzione scuola con il territorio la istituzione regione è vicina e prossima ai territori alle istituzioni locali Resta in bilico il futuro del sindaco di Avellino l'opposizione prepara la mozione di sfiducia entro un mese il destino dell'amministrazione potrebbe essere segnato pizza al PD basta temporeggiare La bozza del documento per la sfiducia a Ciampi c'è già e rimarrà aperta ad eventuali adesioni ci vogliono 13 firme per essere presentata in consiglio comunale al momento sono 10 ci sono i 5 popolari di Nello Pizza ai tre consiglieri di mai più Dino Preziosi e Nadia Arace per chiudere manca l'ok di Gianluca Gaeta e a sorpresa di Ines Fruncillo e Lazzaro Iandolo per Forza Italia l'intesa di massima è stata raggiunta durante un summit nello studio di Pizza ma per arrivare a quota 17 necessaria per sfiduciare Ciampi mancano le firme del PD e Pizza chiede ai Dem un atto di responsabilità e coraggio per il bene della città non ci sono elementi che ci consentano di pensare che i prossimi giorni possano dare un'utilità alla città e speriamo che il Partito Democratico sia sulla nostra stessa posizione anche sui tempi della mozione di sfiducia perché credo che forse la città non capirebbe il calcolo politico in questo caso bisogna badare alla sostanza Avellino ha bisogno di essere amministrata in questo momento c'è un'amministrazione che è in totale stallo intanto sono iniziate le grandi manovre verso le provinciali del 31 ottobre e De Mita apre uno spiraglio per un'intesa con il PD a patto dice che i Dem comincino ad essere qualcosa di definito un vero partito se si riproducono come nel Consiglio Comunale non mi pare che ci sia un terminale per discutere mi pare che un inizio di recupero del senso di responsabilità comincia a nascere migliaia di persone a Salerno per la processione di San Matteo da De Luca stoccate alla curia il messaggio dell'Arcivescovo sia la festa di tutti Giovanni Battista Lanzilli l'abbraccio di Salerno a San Matteo tantissimi hanno partecipato alla processione in onore del Santo Patrono migliaia di persone che non hanno voluto mancare ad uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno per l'Arcivescovo Luigi Moretti che non ha partecipato a tutta la processione una giornata di festa per tutta la città anche se non senza commozione ha chiesto ai fedeli di pregare per lui credo che bisognerebbe cogliere ogni volta il senso che ci aiuta ad andare avanti il problema è non essere ripetitivi perché ripetere solo diventa rito celebrare significa crescere la città oggi ha abbracciato il suo santo protettore insomma c'è un clima davvero di grande festa e di grande partecipazione oggi sì io ho visto questa mattina alla celebrazione della messa molta partecipazione ma soprattutto partecipazione vera eccellenza se si potesse riassumere diciamo il messaggio più importante che viene da questo giorno oggi per la comunità salernitana il messaggio è di prendere il Vangelo e prenderlo sul serio è quello che ci dice San Matteo proprio perché è il dono che fa la chiesa si tratta di vedere come lo usiamo prima della processione il governatore Vincenzo De Luca nel suo consueto appuntamento settimanale sull'Ira TV non aveva risparmiato qualche stoccata all'indirizzo della curia ricordando che sotto il suo sindacato erano state rimosse le vetrate anni 30 del comune e installate quelle in onore di San Matteo proprio per ospitare l'ingresso del santo patrono durante la processione nel palazzo di città Nubifragio a Grotta Minarda in Irpinia è franato un muro di contenimento lungo la strada statale 90 ora l'arteria è percorribile in un solo senso di marcia a Grotta Minarda sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano e i vigili del fuoco del distaccamento di Grotta Minarda in attesa dell'intervento dell'ANAS il comune di Benevento corre ai ripari ed effetto analisi dell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento dei fiumi che nei mesi scorsi aveva portato al sequestro di scarichi e depuratori vediamo inchiesta sugli scarichi illegali nei fiumi calore sabato l'amministrazione comunale di Benevento corre ai ripari come si ricorderà la procura al termine di elaborate indagini effettuate con reparti specializzati di Capitaneria di Porto e Carabiniere ha messo Palazzo Mosti nel Milino per l'assenza di un sistema di depurazione funzionale per la procura anche i reflui provenienti dai pochi impianti presenti sono fuori norma i depuratori sono stati posti per questo sottosequestro fatto salvo il diritto d'uso nell'ambito di accertamenti peritali di parte il comune di Benevento ha disposto nuove analisi i prelievi hanno riguardato tutti gli scarichi l'ultimo censimento ufficiale ne ha individuato 24 ma sono molti di più a preoccupare sarebbero i dati nelle mani della procura vanno ben al di là dell'inquinamento fisiologico da acque nere rivelando la presenza di agenti chimici molto più pericolosi di cui l'iniziativa del comune che attraverso analisi proprie cerca riscontri o controtesi di all'assunto degli investigatori di via De Caro nel frattempo la progettazione del maxidepuratore che dovrebbe sorgere tra Pantano e Serretelle va a rilento neanche l'intervento del commissario Rolle ha potuto accelerare la realizzazione rilanciare il commercio ad Avellino attraverso i fondi europei presentati gli incentivi per ristrutturare o aprire nuove attività vediamo 2 milioni e mezzo di euro di fondi europei per rilanciare il commercio ma non solo il comune di Avellino presenta il piano per contrastare la crisi obiettivo vivificare l'attività dei commercianti specie del centro storico ma ci sarà spazio anche per terzo settore servizi sociali e attività professionali gli assessori Maura Sarno e Carmine De Angelis hanno presentato il progetto chiamando a raccolta i rappresentanti delle associazioni di categoria tanto per chi vuole creare nuove attività parliamo di commercio artigianato e servizi ma anche per chi vuole innovare migliorare ciò che già ha e parliamo del centro storico inteso come il centro storico tutta la parte che sappiamo da via Nappi fino a via Francesco Tedesco tutta la zona che affaccia sul Fenestrelle ma abbiamo inserito anche Valle la parte dei prefabricati pesanti che ha veramente bisogno di un rilancio economico commerciale Il contributo si aggira da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 70.000 ed è un contributo a fondo perduto quindi una dotazione finanziaria certa noi dobbiamo dimostrare alle regioni che questo settore riesca a certificare spese in modo immediato perché grazie alla certificazione delle spese mediate possiamo chiedere un ulteriore aumento della dotazione finanziaria uno dei problemi della regione ormai è quasi certo ieri ho avuto un incontro con il responsabile dell'unità di controllo della regione Campania e quella che questa regione soffre di certificazione della spesa non riesce a certificare l'avanzamento della spesa e quindi privilegia in qualche modo incentiva tutte quelle attività o anche tutti quegli enti e soggetti che riescono a dimostrare spesa nel corso della loro gestione parte la progettazione del nuovo ospedale di Salerno ad annunciarlo il governatore De Luca che rivendica l'impegno per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria in città e in regione il progetto prevede un investimento complessivo di 400 milioni importanti novità per il nuovo ospedale di Salerno in una nota la regione Campania ha fatto sapere che è stata pubblicata la gara di progettazione per la realizzazione del nuovo San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona si tratta come annunciato nei mesi scorsi dal governatore Vincenzo De Luca di una delle strutture sanitarie più moderne d'Italia con le caratteristiche di un policlinico universitario capace di offrire servizi di un DEA di secondo livello e con 716 posti letto complessivi il nuovo ospedale prenderà il posto dell'attuale Ruggi d'Aragona la società appaltante la soresa che proprio questa mattina ha pubblicato il bando di progettazione per un valore di 18 milioni di euro il nuovo ospedale di Salerno è un'opera decisiva considerando che l'attuale struttura per i propri limiti è destinata alla chiusura ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca si tratta di una scelta coraggiosa trovare complessivamente risorse per 400 milioni di euro per questa realizzazione è stato davvero un miracolo seguiremo con attenzione tutti i passaggi amministrativi fino alla realizzazione dell'opera che diventa parte essenziale della rete ospedaliera regionale insieme all'ospedale del mare e al policlinico di Caserta le parole del governatore la realizzazione del policlinico salernitano è stata accompagnata in questi mesi da non poche polemiche parte delle opposizioni hanno contestato quello che hanno definito l'ennesimo scempio urbanistico mentre le organizzazioni sanitarie di categoria hanno invocato provvedimenti per migliorare la qualità dell'assistenza attuale prima di investire in nuove strutture polemiche alle quali il governatore e l'amministrazione di Salerno hanno sempre replicato seccamente sottolineando invece la grande opportunità che può arrivare dal nuovo ospedale cittadino ed era l'ultima notizia il TG termina qui grazie di averci seguito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti